Dopo il successo della prima edizione torna in cucina con lo chef, programma veloce e dinamico e su cui il gruppo editoriale di Telemolise torna a scommettere. Tante le sorprese e le novità della striscia quotidiana che sarà trasmessa dal lunedì al sabato mentre la domenica andrà in onda una puntata speciale che racchiude il meglio della settimana. A preparare i piatti, come sempre, sarà lo chef Nicola Vizzarri. Le novità sono il sabato per quando riguarda il piatto da dessert, da pasticceria, quindi quello da riproporre a casa, sempre con attrezzature di quello che si hanno. E il venerdì è un piatto di gran gourmet, un piatto più importante da proporre in occasioni speciali, in ricorrenze di feste, quando uno ha un ospite un po' più particolare a casa. Un'altra inserzione che abbiamo fatto è il piatto da street food, il cibo da strada, quindi rivisitato in chiave moderna, alleggerito, da proporre a casa, ovviamente. Anche quest'anno tanti partner che scommettono sul programma, tra cui arredamenti, spazio cucina vitale e di termoli, al cui interno è stato allestito il set, quest'anno con una nuova scenografia. Siamo contenti di continuare questa collaborazione e quest'anno, come potete vedere, abbiamo rinnovato tutta l'immagine della cucina, quindi abbiamo cambiato proprio tutta la cucina e speriamo di avere un ottimo successo, un buon riscontro da parte del pubblico. Il programma si arricchisce di una new entry, la bellissima Rachele del Borrello, che lo scorso anno si è classificata al quinto posto del concorso di bellezza per eccellenza Miss Italia, la prima esperienza televisiva per Rachele, che accompagnerà lo chef in questa nuova avventura. Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura, di affiancare uno chef che per me è un esempio in quello che fa, lo chef Nicola Vizzari, perché anche io posso imparare tanti segreti, tante ricette, perché essendo anche universitaria è importante per me poi riuscire a realizzare determinati piatti che poi potranno sempre servirmi in un futuro. Il programma è nato da un'idea di Gigi Di Simio, tante novità dunque con puntate ospiti speciali in serbo per la nuova stagione. Questo è il secondo anno, fortunatamente i riscontri che abbiamo avuto sono stati tutti positivi e questo ci ha spinto a proseguire, dallo street food al piatto di Gran Gourmet e poi alla presenza di Rachele e al sabato il dolce della settimana, tutte queste cose daranno altra verva al programma. e poi non nascondiamo, diciamo che ci sono altre sorprese che adesso non svegliamo, le teniamo, però insomma chi ci segue, continuate a seguirci tutti i giorni perché ci saranno puntate speciali, saremo insieme anche quest'anno a Natale, ci sono tante belle cose che in questo caso ci sta bene dirlo, volano in pentro.